Credo che sia la regina nel mondo delle sportive, è la MV Augusta F4, dietro di lei c'è il signor Paolo Casoli. Ciao Polino, sei venuto a raccontarcela un po' perché tu questa moto in realtà l'hai provata in passato. Io sono qua seduto comodo, sono sul mio casco perché ammiro, dal mio punto di vista, la parte più bella di questa F4, che sono questi quattro scarichi. È una moto eccezionale, poi vabbè, MV Augusta credo che abbia poco da aggiungere a quello che è il fascino di un marchio così prestigioso e così vittorioso, soprattutto. MV Augusta credo che un appassionato motociclista lo associ al nome di Giacomo Agostini, lo conosci? Sì, penso di sì. Sembra di ricordare un qualcuno che ha vinto. Ha vinto qualcosa, sì. Ha vinto parecchio anche con questa moto. Senti, è una moto che esiste da parecchi anni, cioè la salsa non è cambiata. Da fine anni 90 che si è presentata sul mercato con un 7,5 di cilindrata, poi mano a mano è andata a evolversi, soprattutto a livello meccanico e tecnico, ma le forme, direi che quelle di oltre dieci anni fa sono da sempre azzecate. Pensa che ha vinto un sacco di premi, un sacco di riconoscimenti in tutto il mondo. A te piace? Sì, per me è stata forse la moto stradale più bella in assoluto che abbia mai guidato. Io l'ho guidata in pista al Mugello. Quando è che l'hai usata? L'ho usata in un test al Mugello per una rivista due anni fa, mi sembra. E quando avevo un parco di moto notevole, quando vidi l'MV, che mi disse anche cosa costava, rimasi... Che è un patrimonio, perché comunque è una delle moto che sul mercato fa sentire il suo peso anche da quel punto di vista. Mi sembra che ad un momento fosse la moto più cara sul mercato e dentro di me ero anche discretamente prevenuto perché ho detto cavoli questi fanno pagare una moto un sacco di soldi perché si chiama Meree, ma magari alla fine della solfa è una motaccia. Ma perché è italiana, dici? No, perché ho detto come di solito si fa, costruiscono un niente intorno a un marchio famosissimo. E invece mi sono ricreduto appena sono salito sulla moto, sono uscito dai borsi, ho fatto un giro, sul passare del traguardo al Mugello, sul passare del traguardo al Mugello ho sentito questa moto, mi sembrava di guidare la mia moto da corsa. Era una moto presa dal concessionario e scaricata in pista. Quindi assolutamente di serie, come di serie. Ma favolosa, una moto che si lasciava guidare, non guidava lei, la guidavi tu, andava dove volevi tu, era perfetta, ciclisticamente parlando, è stata la moto stradale più bella che abbiamo mai guidato. Addirittura. Poi ci sono alcuni punti che non mi ha soddisfatto in pieno, però a livello ciclistico, di sospensioni e ciclistiche in generale, è stata la moto più bella che abbiamo mai guidato. Allora parliamo intanto, visto che hai detto ci sono dei punti che non mi sono piaciuti, cominciamo ad analizzarlo un po'. Oramai è una moto che tutti gli appassionati sicuramente conoscono e conosceranno ogni minimo dettaglio tecnico. Esteticamente ti piace? Esteticamente è bellissima. Che voto gli dai da 1 a 10? Io gli darei 9, 9 e mezzo, quasi 10, perché per me è una moto, diciamo che ricorda molto il 916 della Ducati. Vero, anche perché c'è la mano di tamburini, appunto, c'è la mano di tamburini, perciò non poteva... La CRC, il CRC che è il centro di ricerca e sviluppo a San Marino, che ha sempre lavorato per Meviagusta e prima per Ducati quando appunto è nata la 916. Non poteva assolutamente sbagliare e dunque è una moto che non c'è il peso degli anni, come puoi vedere, anche solo un 916 con una moto ormai di quanti anni fa? Era del 93, no? Di più, era del 93, ha quasi 20 anni. Quasi 20 anni, è ancora una moto abbastanza attuale, non è una moto vecchia. E questa è una moto che rimarrà attuale per tantissimo tempo. Ad esempio, oggi, se tu ti guardi un po' in giro, nel panorama delle sportive, trovi una moto, magari anche giapponese, che ha un po' lo stesso fascino, bella a livello di linee, o credi che continua a rimanere là, se non in vetta, comunque zona podio? Perché c'è anche l'Aprilia che a me piace molto, ad esempio. Beh, l'Aprilia, effettivamente l'Aprilia, la RSV nuova è molto bella. Le moto italiane diciamo che sono le moto più belle. Le moto giapponesi sono belle perché sono molto belle nel momento che escono, hanno delle linee molto innovative, molto giovani, però diventano vecchie subito. Diventano, dopo pochi anni, dei ferri, proprio dei ferri vecchi. È vero, è vero, sono d'accordo con te su questo. Poi, componentistica. Qui abbiamo una serie di comandi che poi sono tra i più classici, no? Perché poi la sportiva non è che serva grandissime cose. Si va sull'essenziale anche per cercare di risparmiare un pochino di peso. Finiture, come la valuti? Beh, finiture, come moto stradale, è una moto rifinita molto bene. Ovviamente le moto da corsa sono un'altra cosa, però quelle si va alla ricerca delle finezze. Qui ha anche gli attacchi rapidi sulla carenatura, per smontarla velocemente. Dunque, diciamo che è una moto pensata per andare anche in pista, o pensata per poterci mettere le mani. Anche il profano può metterci le mani e può cercare di curarsela. È una moto che, come vediamo, a livello di schifreni, pompa freno, pinza freno, sono della Brembo. Perciò è una qualità ottima. Abbiamo la pompa della Nissing, che io lì avrei optato per una Brembo perché, come tutti sanno, è il materiale migliore. E comunque direi che da vedere non è una moto assolutamente fatta in economia. Cioè, è proprio... hanno costruito una moto cercando di non risparmiare. L'unica cosa su cui, non lo so, io avrei qualche perplessità è la parte meccanica, perché in realtà non c'è stato questo grande passo da quando è nata la versione, quella grande, il 1000, diciamo, da 7,5 passando al 1000. E continua a mantenere un motore un po' vecchiotto. Sì, è vero. Effettivamente, diciamo, tra i punti che non mi erano piaciuti, uno era il motore e l'altro era appunto il freno, che non era potente come... Il freno, quello davanti? Il freno davanti, sì. E non era potente come altre moto che ho provato in quel momento lì. Comunque parlano sempre di moto italiane. E parlando di pista. E parlando di pista. E parlando di pista. Non ha niente a che vedere con un freno stradale, perché il freno della pista deve essere potentissimo e reattivo al 100%. Mentre un freno stradale deve essere meno potente, perché altrimenti lo stradista potrebbe anche parlare un errore e cadere. E comunque per la strada ne ha da vendere. Ne ha fin troppo. Perciò è una moto che... E il motore, sì, è un quattro cilindro un po' vecchiotto, non mi ha soddisfatto, però come dico, parlo sempre... Non ti ha soddisfatto cosa? Prestazioni, erogazioni? Perché ad esempio su strada, ti dico, tende a scaldare un pochettino, ad avere qualche rumorino meccanico, però la birra c'è. No, in pista quelle cose lì non le noti. Ovviamente parlando di pista, ogni moto o ogni macchina stradale in pista non va. Cioè, l'effetto è sempre stato questo. Io mi ricordo ai tempi, provavo una moto stradale, la provavo in pista e dicevo, ma questa moto non va. Però una volta messa su strada, la moto è una bomba. Perciò tra la pista e la strada c'è veramente un abisso. Per la pista, come dici, i rumori che mi dicevi non li ho sentiti, perché guardi altre cose. Anche perché poi vai forte... Sì, poi guardi altre cose, non sono le cose importanti, i rumori del motore. Però mi ha un po' deluso perché non c'era abbastanza birra. Al contrario di altri modelli che ho provato. Cioè, tu sai che fa oltre 300 km orari. 312 km orari, sì. Sì, però probabilmente li fa stesa per qualche chilometro. E la pista, il retinino massimo di una pista, può essere un chilometro 8, un chilometro 7. Perciò non aveva la strada giusta per poterci arrivare. Come... hai fatto qualche giro, immagino? Sì, ho fatto qualche giro. Cronometro in mano? Cronometro in mano. Adesso non ricordo bene. Dai, dai, dillo. No, no, il tempo non lo ricordo. Dillo. Non lo ricordo, giuro. Dillo. Giuro, giuro. Sei andato piano. Allora sei andato piano. Sono andato piano, sì, sì, ma sono andato piano perché non sono più capace di andare forte. Non sono più capace di andare forte. No, no. 220? No, no. No, molto meno. Sotto 210? Sotto 210? No, certo. 2,5? Ma meno. Meno di 2,5? Allora sei sempre il solito caso. No, 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 no. Il solito caso io giravo con un 748 nel 1997 in 58. Ah, caspita. Con una moto che non andava avanti neanche. Posso dire una cosa? Era un gabinetto la tua moto? Un gabinetto? Sì. Era molto peggio di un gabinetto. Ah, ecco, bene. Una latrina. Esatto. Però ho fatto 58 a quei tempi. Adesso 58 non lo faccio neanche con un superbike. Perciò vuol dire che proprio sono lontano nei luci da quello che ero ai tempi. Ma con questa moto mi ricordo che il primo impatto che anche il giornalista che mi seguiva rimase colpito. Cioè ti seguiva da dietro? No, mi seguiva dai box con il cronometro. Rimase colpito. Venne e mi disse, allora, io con il sorriso ho detto, questa moto è fantastica. Perché feci due secondi e mezzo meglio della miglior moto con cui ho girato fino a quel tempo. Ui, la miseria. Due secondi e mezzo. Perché lei andava dove volevo io. Cioè tu in quella giornata hai usato anche altre motociclette. Altre moto. Le ho fatto con tutte più o meno, giravo sui stessi tempi. Moto di serie senza toccare regolazioni. Moto di serie, stradali, gomme stradali, senza toccare niente. Presa dal concessionario e messe sulla pista. Usate. E ovviamente cercando di portarle al limite. Non cercando la caduta. Cercando di portarle al limite sempre con un bel margine di sicurezza. Sì, sì, certo. Con tutte non mi sono mai sentito sicuro al 100%. Perché con la moto stradale fai fatica a sentirti sicuro. Perché non è costruita intorno al tuo modo di guida. È morbida. La moto da corsa la fai tu. La fai perfetta. Perciò ti dà una sicurezza che da una moto stradale non potrai mai avere. Da questa moto io ho avuto una sicurezza che era molto molto vicina a una moto che mi ero costruito io. La mia vecchia R6 che ho usato fino a pochi anni prima. Era una moto che era secondo il mio punto di vista perfetta. Non c'era niente che non andasse bene. E questa era una moto che era molto vicina a lei. Mi ha dato, dopo tanti anni che non salivo su una moto da corsa, questa mi ha dato una fiducia. E una, come si può dire, una certezza di quello che stavo facendo che nessun'altra moto stradale mi ha dato. Sai che ci sono invece stati, soprattutto in quel periodo, tu parli del 2008, quando l'hai utilizzata, però ricordiamo bene o male l'evoluzione dell'MV non è stata così esponenziale negli ultimi anni su questo modello. E ci sono invece tanti giornalisti che ne hanno parlato come una moto impegnativa. Quindi difficile rispetto, che so, a una Honda qualsiasi, a una Yamaha R1 qualsiasi, perché ha un avantreno che è vero che è granitico, ma va gestito, va guidato, va impostato dentro la curva. La giapponese forse è un po' più alla portata di tutti. Non so tu cosa ne pensi. Io credo che come tutti i mezzi estremi per la pista, il mezzo estremo è più difficile da guidare, perché è estremo, perciò ha delle reazioni molto più violente, ha un modo di affrontare le curve, affrontare le frenate, è totalmente diverso da una moto da strada, con tutto morbido e tutto, diciamo, utilizzabile per chiunque. Io credo che il giornalista, se non ha esperienze di corse, su una moto stradale classica, morbida, con dei freni un po' meno potenti, con un'erogazione di potenza più dolce, si trovi sicuramente meglio che su una moto molto più rigida, molto più ingrugnita da buttare dentro, perché comunque una moto da corsa non è che va dentro la curva da sola, la devi buttare dentro, ma la devi buttare dentro con tanta violenza. E lì la bellezza, che è una moto stradale, la butti dentro con violenza, ti si chiude davanti e vai per terra. Una moto da corsa, la butti dentro con tutta la violenza, con una violenza inaudita, diciamo, da zero, cioè da 90 a 30 gradi, in un battibaleno, in qualche frazione di secondo, e lei deve rimanere lì, mentre una stradale comincia a imbarcarsi, comincia a fare questo e va per terra. Tu riuscivi a fare le traiettorie che volevi tu, cioè le traiettorie da corsa? Assolutamente, io riuscivo a fare l'unica moto, nonostante avesse le pedane molto basse, e io sfregavo... Sono basse? Sì, sono basse. Vuoi far vedere quanto sono basse? Prova a salire con le tue super scarpe. Sono basse, le mie super scarpe nevicava, sono partito che nevicava, sono basse però... Se queste sono basse, non so come sei abituato tu, alza l'altra gamba, così si vede anche a favore di telecamera. Sono basse, sono basse ma diciamo che... Che scarpe orrende. Le scarpe sono orribili, e vedendole... C'è anche la regia che ti fa la cortesia di incontrare. E vedendole in televisione mi accorgo che è ora che le cambio. Sei veramente un rand. Perché in televisione vengono molto... la televisione dicono che imbruttisca, ed è vero, perché oltre che imbruttire... Io posso assicurare che sono brutte davvero, ma sarai credibile con queste scarpe, cioè raccontare questa bellissima MV, secondo me adesso ti ribalta per terra. Io lo spero di essere credibile, però la scarpa, di solito la scarpa è un indumento che... È un feticio, tu hai un feticio, a te piacciono le scarpe bucate. Ma è corso un partito che c'era mezzo metro di neve a casa mia. Non trovare giustificazione, sei un barba. Sono venuto qui per te e mi tratti così. Esatto, hai ragione. Senti, no, parliamo sempre di questa moto. Mi interessa capire da te, quando sei sceso, dopo che hai fatto una manciata di giri, se avevi, diciamo, la necessità di apportare qualche intervento, indurire, ammorbidire la forcella, l'amortizzatore, non lo so. No, in quel momento lì no, perché non ero lì per fare dei tempi, ero lì solo per assaggiare e per dare un giudizio sulla moto. E in quel momento la moto per me era perfetta. È chiaro che se vai a cercare un tempo di andare a spingere, allora le modifiche da fare c'erano. Soprattutto le pedane, per me erano troppo basse, avrei dovuto alzare le pedane per poter andare più forte. Perché quando il piede comincia a scivolare per terra, la moto non è più stabile. La moto si alleggerisce dietro, comincia a imbarcarsi. E se vai a rinclinare ancora di più, vai per terra. Io nel mio modo di guida ho sempre avuto un modo di guida abbastanza spigoloso, ma con delle pieghe estreme. Cioè piegavo tantissimo. E per poter piegare così dovevo portare le staffe altissime. Che questo ha dato nel mio modo di guida tanti vantaggi. Il primo, la staffa molto alta fa sì che tu sia sempre col peso sulle staffe e non sulla sella. Perché sono talmente alte che non riesci a stare seduto. E secondo, quando sei in curva, che pieghi, il piede non tocca. Ma scivola appena appena sul terreno e non tocca. Forse la mia posizione di guida, il mio piede non era nella posizione corretta. Perché altri piloti che sono saliti sulla mia moto sono meravigliati. Non potessi guidarla con le pedane così alte. Uno di questi era Carl Fogarty. Lui montò sulla moto e poi scese facendo così con la testa. Era impossibile poterla guidare. Io la guidavo così. Ognuno si setta la moto secondo le proprie esigenze. Senti, a proposito di corse, MVC ha provato. Tra l'altro, ai tempi, il presidente Claudio Castiglioni promise che prima o poi sarebbe arrivato a fare qualcosa a livello di ufficiale. Invece in Superbike non l'abbiamo mai vista realmente. Ci sono state delle apparizioni con dei team supportati. Però è mancato un po' un risultato. Sì, questo me lo sono sempre chiesto perché. Perché da una base così ottima. Secondo me, lavorandoci intorno, questa potrebbe diventare veramente la moto, io credo, migliore. La guidava Lucas Cassa, se non ricordo male, nel mondiale Superstock. Però, ecco, è nel mondiale Superbike che è mancata. Quindi nonostante ci fosse un po' di farina sotto per costruire questa moto. Forse non c'erano le finanze, l'azienda ha pensato che certe finanze non andavano spese qui, ma andavano spese da altre parti. Ma secondo te sarebbe stata una moto competitiva a livello mondiale? E lo sarebbe oggi? Considerata la base, io penso di sì, perché ci sono moto che vincono nella Superbike. Vuoi fare i nomi? Meglio di no. Che come base sono molto, ma molto più indietro. A due o quattro cilindri? Sì, a due che a quattro. Ah sì? Tu dici sono più indietro rispetto a... Stradalmente parlando, sì. E' chiaro che io ti sto riportando quello che ho sentito in pista. Perciò uno che compra questa moto e ci va per la strada, probabilmente ci trova una moto, forse come dicevano i giornalisti, più difficile. Perché è una moto che ha già un qualcosa nel DNA da pista. Perché una moto da pista non la puoi usare per la strada. Ma su strada, ad esempio, che cosa può far godere una moto di... Beh, innanzitutto il fascino, perché quello... Solo. Indiscursamente. Una moto così su strada è assurda. Cosa te ne fai? Dove vai? Perché dici è troppa? Perché è troppo. Qualsissima moto super sportiva per la strada è troppo. Non la usi. Non la puoi usare tutta perché non la puoi usare tutta perché sulla strada devi andare... Devi stare attento agli altri e andare a rispettare i limiti. È una moto scomoda. Non ci puoi andare in due. O se ci vai in due ci vai scomodo. Hai una posizione di guida che comunque sei sempre incannato giù. Ti voglio vedere stare... Aspetta che vengo su con te, intanto che spieghi vediamo come si sta in due, dai. Ore, ore, ore... Posteria com'è alta. Oh là là, che fatica. Stare ore, ore, piegato su una moto, ingobbito sul manubrio, mi sembra che sia... Dai, abbassati così proviamo... Io, cioè, dovrei stare appoggiato al serbatoio così. Sì, sì. Non è malaccio, cioè non è che sei scomodo. Il problema è salire, forse un po' meno scendere, e probabilmente il comfort non sarà... E starci qualche ora. Esatto, e starci magari qualche ora per un giro un po' lungo. Però secondo me una moto così vale la pena anche prenderla per tenerla in salotto, potendo. No? Talmente bella. No, io quella della moto... Io nel mio salotto... Non ci sta. Non ci sta. C'è 500 metri quadrati di casa, mi hai detto. Qualcosa di più, però... E allora, non ci sta nel salotto. Però, no, la mia moto ce l'ho emassata. La mia R6 ce l'ho emassata, sì. Ho una stanza, praticamente, dove ho tutti i miei trofei e la mia R6. E tu non ci metteresti un MV F4? No. Cioè, l'unica moto che ci metterei è il mio vecchio 748, quello con cui vinci la Coppa del Mondo, però ai tempi la Ducati mi chiese troppi soldi e io ho detto no, tenetevola, perché... Una moto con cui vinci un campionato e sei primo in una stagione, io credo che... Ti viene d'ufficio. ...debba essere regalata. A me non me la regalarono e allora io dissi no, non la voglio. Orca miseria. Adesso un po' mi pento, però a quei tempi l'avevo deciso così. Beh, però se MV dovesse decidere di regalartela per metterla... Ci vado in giro. Ah, ci va in giro? Sì, sì. Ah, ci va in giro allora. Sì, sì. Dice no, su strada non è la moto ideale, però non lo resti. Sì, diciamo che la moto da corsa, la moto da pista è talmente tanto bella rifinita, titanio, magnesio, è tutto perfetto, è un bel quadro. Allora messi in un salotto ci può stare, anche le pedane tutte elaborate al tornio, sono cose proprio fatte veramente in pezzi unici. Mentre una moto stradale, diciamo che il 90% dei pezzi sono stampati, perciò non hanno quella bellezza, quella finezza della mano dell'uomo. E' una moto così in salotto, non ti dice niente. Non ci sta, dice. Senti, ma prima di salutare i nostri amici, io non so se la regia mi dà il permesso, ma io lo faccio lo stesso. La accendiamo, facciamo sentire ste cane d'organo come suonano. Basta, basta, basta ragazzi, basta se no qui arrivano e ci fanno una crappa così. Senti Paolino, grazie, moto meravigliosa, la prossima volta ti vogliamo vedere in pista i corsi di guida, perché chiaramente tu la userai, lo sai? Sarei uno dei piloti che userà questa F4 ai nostri corsi, corsidiguida.it, per cui vi aspettiamo anche là con l'MV e poi con le altre Harley Davidson, per chi vuole andare un po' più tranquillo. Sono felice perché, come dico, mi era piaciuta molto, perciò è una moto che la guiderei volentieri ancora. Beh, sono contento, grazie Paolino. Ciao, ciao a tutti, ciao. Se fossi fuoco, arderei il mondo, accenderei passioni, scalderei le anime. Con un solo gesto.